Siamo all'anteprima di Veloce come il vento, il film di Matteo Rovere con protagonista Stefano Accorsi e Matilda De Angelis al suo esordio cinematografico. Noi di Fanpage l'abbiamo intervistati, sentite che cosa ci hanno raccontato. Abbiamo soltanto una gara, ancora una. Guarda che quella è una gara da malati, da disperati. Guarda che i disperati veri si è rimasti in pochi. Perché hai scelto di rischiare raccontando una storia che non è usuale nel cinema italiano? Ma in realtà secondo me è interessante quando il cinema italiano non è riconosciuto solo come genere a sé. Cioè lo spettatore dice sempre vado a vedere un film italiano oppure non vado a vedere un film italiano. Come se i film italiani fossero tutta una specie di agglomerato, non so, di tante cose diverse. Un blob che va diciamo dal film d'autore alla commedia al film anche di genere. Insomma ci sono tante cose che secondo me il cinema italiano ci sa proporre. E quindi ho semplicemente cercato di raccontare una storia che mi emozionasse, mi colpisse. E la vicenda di questi due fratelli, Giulia De Martino, pilota di auto da corsa, e il fratello Loris, che è tornato dal passato per prima farsi detestare e poi per aiutarla, mi hanno restituito una grande emozione e quindi da qui l'idea e la voglia di prendere il loro racconto e appunto diciamo inserirlo anche un po' rischiosamente in una storia di genere che quindi per lo spettatore però fosse anche piena di ritmo, emozionante, divertente, godibile da vedere al cinema, da vedere in sala. Senti invece sono curiosa di sapere come avete realizzato le scene d'azione perché sono un omaggio, non un omaggio, sono molto simili a quelle tra Fast and Furious e Rush. Anche se tu hai fatto anche un'altra citazione al cinema europeo, non solo quello americano. Sì, io in realtà mi sono ispirato un po' a Ronin, che è un film diciamo europeo-francese, anche se regista non francese, e perché mi piace e mi diverte molto l'idea di prendere lo spettatore e portarlo all'interno di queste sequenze e quindi non fare un po' il lavoro che fanno di regia i film americani, quindi costruire un po' tutto al computer e tirare fuori lo sguardo dello spettatore che osserva anche un po' se vuoi freddamente una sequenza d'azione. Ma l'idea interessante era quella di prendere un po' le tecniche analogiche, quindi appunto di Besson, di tutto quel tipo di cinema lì, ma anche appunto di Ronin, ma anche del cinema italiano anni 70, quando poi si facciano i veri inseguimenti con le macchine, e realizzare dal vero e dal vivo tutta una serie di sequenze cercando di stupire lo spettatore attraverso quel tipo di racconti. Ma che non stai respirando, sul retrio di Imola si respira sempre, capito? Veloce come il vento fa parte di una rinascita del cinema italiano e sono curiosa di sapere il tuo punto di vista perché tu hai un duplice sguardo, quello da regista e quello da produttore. Diciamo che questa rinascita è nata proprio con Smetto quando voglio, poi è continuata ad esempio con Garrone che ha sperimentato con il fantasy e il racconto dei racconti, con Mainetti che ha riportato il genere supereroistico, lo chiamavano Gig Robo, quindi volevo sapere qual è la tua visione adesso, cioè il tuo punto di vista su questa rinascita appunto del cinema italiano. Ma secondo me è interessante se, diciamo, una generazione 30-40 anni, insomma, è un po' interessante... Giovani in Italia, siamo giovani. E' interessante se il tentativo, cioè il tentativo che noi possiamo fare è quello di provare a realizzare dei film che noi stessi vorremmo vedere, anche a me c'è un po' di cinema italiano che mi annoia, che non mi intrattiene, che non mi diverte come cinema che importiamo riesce a fare e volevo realizzare un film che invece fosse di puro intrattenimento, in senso di film emotivo, emozionante, ma allo stesso tempo adrenalinico, ritmato, sorprendente per lo spettatore, un po' un unicum, no? Una cosa un po' mai realizzata prima. E questo anche da produttore, poi, è quello che cerco di fare, a volte ci riesco, a volte no, nel senso che l'idea è quella di comunque sforzarci su un cinema che è un po' più difficile tecnicamente o anche un po' più difficile perché c'è una grande attenzione alla sceneggiatura, si scrive per molto tempo, cioè c'è un'attenzione al prodotto che è molto, molto solida, anche perché secondo me, diciamo, quando si esce con un film al cinema si ha anche una certa responsabilità, quindi bisogna fare un film che poi lo spettatore può decidere se andare o no a vedere, però il mio obiettivo è che se viene a vedere veloce come il vento, gli piaccia. Sanno nato in terza, decise sul cordolo e acceleri senza allargare troppo, poi fino alla terza, fino al limitatore, alla prima S, sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, vacca boi e c'ho tutto qua perché sono quello giusto! Scusa, la questione del linguaggio, hai utilizzato volutamente delle scene in dialetto, non pensi che magari possa essere un rischio, nel senso che magari alcuni non lo capiscono come... Ma in realtà il dialetto di alcune parti del film è il dialetto emiliano-romagnolo, perché l'emiliano-romagnolo è la lingua dei motori e ho fatto tutta una serie di test dalla Puglia alla Val d'Aosta, da Napoli a Torino per vedere se fosse comprensibile, pare sia molto comprensibile, ma soprattutto diverte molto perché è un dialetto, per me che poi sono romano, molto comico, molto leggero, i motori parlano con quella cadenza e io volevo dare molto realismo al racconto e quindi volevo restituire sullo schermo quel tipo di linguaggio.